Un museo territoriale che racconta il paesaggio archeologico dal Neolitico antico al periodo bizantino, in un allestimento di grande impronta didattica. Il museo archeologico Villa Sulcis, cuore del sistema museale della città di Carbonia, è al centro di un'intera filiera dei beni culturali locali, dallo scavo alla catalogazione, dall'esposizione alla divulgazione. Nella sua attuale struttura espone i reperti delle ricerche svolte nei numerosi siti della zona, il riparo di Su Carroppu, la necropoli a Domus de Janas di Monte Crobu e di Cannas di Sotto e Locci Santus, la fondamentale area archeologica di Monte Sirai, col Nuraghe Sirai, divenuta il parco archeologico più ampio del Sulcis. La sala del territorio riguarda l'intero comprensorio, quindi da Su Carroppu di Sirri a Monte Crobu, da San Giovanni Suergiu a Su Fussu Tundu di Santadi, dal Nuraghe Sirai al tempio di Bagoi a Narcao. Qui è raccontata innanzitutto la preistoria e la protostoria, la nascita dell'agricoltura, dei villaggi, il culto delle divinità e le città dei morti nel Neolitico, dal 6.000 al 3.300 a.C. I contatti con le culture europee, la lavorazione dei primi metalli nel periodo eneolitico, che va dal 3.300 al 2.200 a.C. Le culture dell'età del bronzo, dal 2.200 al 900 a.C., con lo sviluppo della civiltà nuragica. Poi ci sono anche i cambiamenti dell'età del ferro, dal 900 al 510 a.C. e i contatti con i greci, gli etruschi e soprattutto con i fenici. Attraverso le vedute dell'antica via sulcitana si giunge alla sala del sulcis fenicio, illustrato dai materiali di sulchi Sant'Antioco e del centro costiero di Bitia. Nella sala di Monte Sirai la vita del centro fenicio e punico è descritta attraverso i temi, il tempio e le divinità, l'architettura e le attività domestiche, le sepolture e riti funerari e poi con gli spaccati della vita quotidiana. In particolare potrete addentrarvi nella città punica con la ricostruzione di una cucina, della tomba a camera e del tofet, ossia un santuario fenicio-punico. Seguendo poi il percorso circolare si giunge al paesaggio in età punica e romana. Ritornando alla prima sala si ritrova il territorio in età romana, che va dal 238 a.C. al 500 d.C. con le pietre miliari della via sulcitana e le necropoli di Carbonia.